La Gabanelli, la giornalista di Report che il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto eleggere Presidente della Repubblica, non gode più le simpatie dei grillini. In meno di due mesi l'incantesimo si è spezzato. E' bastato che la giornalista ponesse un quesito imbarazzante e il feeling si è rotto. La Gabanelli ha soltanto chiesto a Grillo di dichiarare che fine fanno gli introiti del suo blog, che sarebbero anche cospicui. Apriti cielo, come si permette? Che gliene importa? Insomma, per i 5 Stelle la Gabanelli avrebbe meritato la elezione della Repubblica solo se si fosse interessata soltanto degli altri, se si fosse fermata a denunciare le cose o le malefatte altrui. Appena appena ha sfiorato il Movimento, allora è stata definita traditrice ed è stata messa al bando. Per la verità al bando stanno tentando di mettere proprio il Movimento di Grillo. C'è una proposta del Partito Democratico che vieta, che vieterebbe ai movimenti, di avere rappresentanti in Parlamento. Se questa proposta venisse approvata, diventasse legge, i 5 Stelle dovrebbero trasformarsi in partito oppure perdere i seggi a Camera e Senato. La proposta ci sembra abbastanza balzana, irritante, come se non avessimo altro a cui pensare. E comunque in Parlamento è giusto che ci sia chiunque venga eletto democraticamente. Piaccia o non piaccia. Anche Berlusconi. Perché è altrettanto ridicola l'iniziativa dei grillini stavolta di far decretare la ineleggibilità del Cavaliere in quanto il mandato parlamentare sarebbe incompatibile con le concessioni ottenute per le sue televisioni. Ora, l'ineleggibilità andava semmai dichiarata nel 1994, quando Berlusconi entrò in Parlamento per la prima volta, non oggi. E comunque anche questo è un problema vuoto. Serve solo a far perdere tempo e a far spaccare ulteriormente il Partito Democratico che come al solito è caduto nella trappola. Parlamento nuovo, abitudini vecchie insomma. La politica sembra vivere fuori dal Paese, in un mondo diverso da quello reale. Perché alla gente quello che sta accadendo, per esempio sulla ineleggibilità di Berlusconi o sulla esclusione dei grillini, non interessa. La politica però non se ne accorge o fa finta di non accoggersi. In ogni caso non fa certamente gli interessi della collettività. E le cose, nonostante le elezioni di febbraio, non sono purtroppo ancora cambiate. Grazie.